Ehi la riders e benvenuti dal vostro MEDORS. Qualche tempo fa mi sono imbattuto in un articolo di Moto.it che annunciava il probabile arrivo di nuovi modelli BMW per l'ammiraglia GS. La fonte dell'informazione proviene dall'America e non sembra essere assolutamente errata. Quindi stiamo per assistere ad un ennesimo aumento di cilindrata su una moto che già piccola non è e che probabilmente verrà seguita anche da altre case visto il trend degli ultimi anni. Attenzione, di moto enormi di cilindrata ce ne sono state anche nel passato. Basti pensare all'FJR 1300 della Yamaha, alle varie moto custom e cruiser americane, o guardando direttamente in casa nostra con la California 1400 e l'esclusiva MGX21 della Moto Guzzi. E persino se torniamo ancora più indietro con la mente troviamo modelli che hanno superato abbondantemente i 1000 cm3 di cilindrata. Allora perché un titolo del video così perentorio? Questa mini carrellata di modelli hanno tutti una cosa in comune, ossia l'essere sviluppati e pensati per un utilizzo prettamente stradale e soprattutto per macinare molti chilometri in extraurbano. Le maxi enduro stradali non si limitano solo a questo. Quante volte vediamo accostate dal marketing queste enormi maxi enduro al fuoristrada? I video in rete montati a regola d'arte con il professionista di turno che la usa come se stesse in sella ad una endurina leggera o ad una moto da trial non restituiscono le reali difficoltà che moto di questo tipo comportano per un utente che desidera fare viaggi e avventura on-off, in primis per il peso lievitato considerevolmente a causa del progressivo aumento di cilindrata. Senza scomodare i vecchi mono anni 80 ispirati al sogno dagariano, anche con le versioni bicilindriche a cavallo tra la fine degli anni 80 e gli anni 90 e i primi 2000, la partita è impari con differenze di peso di addirittura 30 kg. È vero che anche la potenza ha subito un importante aumento, ma su un moto di questo tipo è così necessario? È pur vero che queste moto non sono delle specialistiche da crossodromo e che debbano avere anche una buona potenza per viaggi su strada con carico di valigie e magari anche con passeggiare al seguito, ma per viaggiare comodi e con il giusto tiro di motore su un moto del genere già una potenza tra i 100 e i 120 cavalli a mio avviso va più che bene. Invece adesso c'è un'insensata, sempre a mio personale parere, crescita di cilindrata, di sistemi elettronici per gestire potenze spesso superiori ai 150 cavalli e rendere fruibili per tutti moto che in realtà non lo sono. Oggi queste maxi enduro stanno giocando un po' il ruolo delle super sportive turistiche di una volta che ricercavano, nell'esagerazione, quel riscontro pubblicitario da parte dell'utente finale, creando oggetti di desiderio prettamente legati al marketing. Personalmente su questi segmenti preferisco più un approccio ondistico con un Africa Twin che seppur 1.100 eroga 102 cavalli, perfetti su strada e fruibili con una buona dose di manico o con un piccolo aiutino a potenza tagliata anche in fuoristrada, anche se comunque pure in questo caso arrivi a pesare di più rispetto ai modelli del passato. Ecco perché molte case mantengono moto medie tra molte virgolette per coloro che vogliono mantenere il peso ai cavalli giusti. Quindi oltre all'Africa troviamo la nuova Norden 901, la KTM 890 Adventure, Triumph Tiger 900 e per trovare moto ancora più dual da viaggio, che sul comfort in strada peccano qualcosa in più, ecco la ormai rodata Tenere 700, disponibile anche in un nuovo allestimento World Ride e la neonata Aprilia Tuareg 660 pronta a dare battaglia. Per pompare cilindrate e cavalli, per sfruttarli maggiormente su strada, personalmente preferirei piuttosto che un KTM 1290 Super Adventure, un bel Super Duke GT, per godere anche della ciclistica con ruota da 17, dell'assetto più caricato avanti ma che comunque mantiene un comfort touring e soprattutto stabile. L'imputato del video però è il GS, che si sa fa un po' un mestiere a parte, sia per tecnica costruttiva come l'adozione del telelever a livello sospensionistico o per la scelta dell'ibrido della ruota da 19 per accontentare un po' ovunque, e un pacchetto elettronico e di accessori opzionali da far impallidire persino l'Enterprise. Il prezzo ovviamente è importante già solo nella versione base, che dà praticamente ruote, manubrio e motore. Stop. Penso che in modo del genere abbiano già toccato l'apice della propria categoria e che al di fuori del marketing, nonostante le normative anti-inquinamento sempre più soffocanti, sia abbastanza inutile pomparle ulteriormente, cercando maggior potenza e con pesi di conseguenza sempre più importanti. Preferirei piuttosto vedere materiali ancora più pregiati e leggeri, assemblati con cura maniacale, anche senza variare il prezzo, e mi piacerebbe anche vedere una maggiore attenzione sulla fascia media, con elettronica ridotta all'osso, come sulla Tenerese 700, ma maggiormente curata su altri dettagli. Un ritorno alle origini, insomma, di un motociclismo appartenente a non troppi anni fa. Rivolgo una domanda soprattutto ai possessori di questi modelli. Cambiereste la vostra KTM Super Adventure 1290 per una 1390 o 1490? Proprietari di GS 1200 e 1250, il 1300 e il 1400 in arrivo, vi interessa e vi serve veramente? Sono veramente curioso di sentire le vostre opinioni ed esperienze, sia dei proprietari di certi mezzi che non. E il dibattito, come sapete, su questo canale è sempre ben accetto, quindi anche le opinioni discordanti, se portate avanti con educazione e modo, sono più che ben volute. Perciò sotto con i commenti. Qualora poi non foste ancora iscritti, ricordatevi di cliccare sul bottone e di attivare la campanellina per stare aggiornati sui miei successivi caricamenti. E se questo video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice in su e condividetelo con i vostri amici, così magari li aggiungiamo anche a questa discussione e sentiamo che cosa ne pensano di questo aumento delle cilindrate per le maxi e enduro. Noi ci vediamo, come sempre, in un prossimo video. Un lampeggio dal vostro MAD ARS.